si sono presi i nostri cuori sotto una coperta scura sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura fu un generale di vent'anni occhi turchini e giacca uguale fu un generale di vent'anni figlio di un temporale ora i bambini dormono sul fondo del sand creek tautologia della ortodossia dataci da quanto sopra e dal spremersi le meningi da parte di chi ama o chi odia a seconda del suo essere presunto buono o fetente proprio salvo non essere completamente interi anche se con idee che producono solo illusione o morte da cui sarà difficile sfuggire ma possibile d'altronde siamo in una guerra perenne a tutti coloro che criticano il comunismo e la cgl o siete letteralmente di fuori e posso anche capirlo data la vostra incompletezza o siete ormai al punto di non ritorno di una tautologia asterisco del vostro pensiero ormai morto asterisco tautologia diversamente da quanto ci dicono dizionari cartacei e online della serie ascolta la tua mente quello che ti dice perché adesso non avrai più bisogno di pensare ma solo seguirci secondo quanto giornalmente i media mainstream vi dicono visto che ormai la vostra preoccupazione sarà opportunatamente e conformatamente risolta da noi loro secondo i dettami classici e non ascoltate né condividete con gruppi che vi dicono cose irrealizzabili fuorvianti innovative e rivoluzionarie che vi porteranno solo agitazione e disagio interiore per una felicità data dalla ingenuità magari si potesse con cui potrete affidarci il vostro destino con la certezza del me ne frego che tutto aggiusta